E' stato fin troppo fortunato il giovane Matesino coinvolto in un drammatico incidente stradale e ora ricoverato in serie condizioni avvenuto lungo la strada Cajanello-Benevento fra le uscite di Alvignano e Gioia Sannitica, rimasto schiacciato fra due camion, uno dei quali era fermo proprio davanti alla sua auto e l'altro è sopraggiunto da dietro. Tutto questo a causa dei lavori che vedete nelle immagini girate dal nostro operatore che ha percorso l'importante arteria a velocità imposta dal codice della strada. Alla base del pericolo, sempre dietro l'angolo, è il caso di dire, il semaforo posto subito dopo una curva. Basta un minimo di fila perché gli altri automobilisti si ritrovano all'improvviso in piena curva, altri mezzi fermi al semaforo, così come è avvenuto con il giovane Matesino. segnaletica disposta male, dunque, che non segnala sufficientemente il pericolo durante le ore notturne. A questo punto qualcosa va fatto e presto, senza attendere altre vittime. Dalla Telesina è tutto, Lorenzo Applauso, per casertasera.it. Grazie mille. Grazie mille. Saストano ad ora.it.